Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Free News. In apertura di questa edizione un'ampia pagina dedicata alla cronaca. E' arrestato un borseggiatore in trasferta nel capoluogo. L'uomo, un 55enne siracusano, era solito rubare portafogli alle donne anziane, specie all'interno di supermercati. Sentiamo. E' stato arrestato dalla polizia di Ragusa Salvatore Carbone, un 55enne siracusano. Nell'ultimo mese nel capoluogo si era registrato un aumento dei borseggi avvenuti all'interno di alcuni supermercati di Ragusa ai danni generalmente di donne anziane. I reati hanno fruttato al loro autore complessivamente più di 8.000 euro, grazie anche ai banco mate codici PIN ritrovati. Sulla base dell'analisi delle modalità operative dell'autore dei borseggi, gli agenti di polizia sono riusciti a risalire all'autore che agiva il venerdì o il sabato, tra le 10 e le 12 del mattino. Nello stesso giorno in genere avvenivano 3 o 4 borseggi. L'ultimo, segnalato ieri alla polizia, è avvenuto in un altro supermarket del capoluogo. Prevedendo le mosse del ladro, gli agenti di polizia si sono subito recati nel piazzale di un altro ipermercato, dove sapevano che certamente si sarebbe recato il borseggiatore. In effetti, in pochi minuti è giunta l'auto nera dell'uomo, auto peraltro già segnalata. Mentre gli agenti controllavano l'auto, una donna segnalava un altro borseggio in un supermercato vicino. Nell'auto c'erano già due portafogli rubati. L'autore del reato, vistosi scoperto e senza scampo, ha accompagnato i poliziotti nel cassonetto della spazzatura in cui aveva buttato l'altro portafogli. Gli agenti hanno recuperato 450 euro delle due vittime. Insomma, l'uomo tra il 21 maggio e il 3 giugno ha rubato altri quattro portafogli, causando danni grossissime alle vittime. Sono ancora in corso le indagini per stabilire se l'uomo si sia reso responsabile di altri borseggi ancora ignoti. A Ragusa, nella notte appena trascorsa, sono stati arrestati due uomini che avevano appena rubato un'auto nel quartiere Cappuccini. Due ragusani arrestati nella notte dagli agenti della sezione polizia stradale di Ragusa, diretta dal vicequestoraggiunto, dottor Gaetano Di Mauro. I due sono accusati di furto aggravato di un'autovettura. Verso le 3 di notte, durante un servizio di controllo, gli agenti hanno notato all'interno dell'area di servizio look oil di Contradacoffa, sulla Ragusa Catania, due persone che armeggiavano accanto ad un'autovettura. I due uomini, Maurizio Pannuzzo di 34 anni e Massimo Licciardino di 23, entrambi ragusani pluri pregiudicati, con numerosi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio, alla richiesta degli agenti di polizia non sono riusciti a dare spiegazioni in merito all'autovettura, una Fiat 1 di colore verde. La vettura era stata rubata nella notte nel quartiere Cappuccini di Ragusa, dove la proprietaria l'aveva lasciata la sera prima regolarmente in sosta davanti alla propria abitazione. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, la dottoressa Serena Menicucci, ha disposto l'arresto dei due presso la casa circondariale di Ragusa. E da Ragusa ci spostiamo a Santa Croce, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino tunisino, con l'accusa di spaccio di sostanza stupefacente. Sentiamo. Arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. A Santa Croce i carabinieri hanno tratto in arresto nella serata di ieri, in flagranza di reato, Bossud Walid, tunisino di 29 anni, senza fissa di mora, celibe e nulla facente. Il ragazzo è stato notato dai militari a bordo di una Ford Ka incontrata a Randello, mentre stava passando qualcosa ad un ragusano di 30 anni, che si trovava sull'auto insieme a lui. Immediatamente i militari hanno perquisito i due, appurando che il tunisino aveva appena venduto un grammo e mezzo di hashish a ragusano, in cambio di 10 euro. La sostanza stupefacente ai soldi sono stati sequestrati, e i due sono stati portati in caserma dove il tunisino è stato tratto in arresto. Per il trentenne ragusano invece c'è stata la segnalazione alla prefettura di Ragusa. Pena di otto mesi con il rito del patteggiamento, per il ganese di 21 anni è arrivato a Pozzallo, nello sbarco dello scorso 18 giugno. Il clandestino era già destinatario di un precedente provvedimento di espulsione dal territorio italiano, dove aveva fatto il ritorno con l'ultimo sbarco. Il clandestino sarà comunque espulso dal territorio italiano e rimpatriato come deciso dal giudice del Tribunale di Modica. La Polizia di Vittoria ha intensificato in questi giorni i controlli del territorio. L'attività ha permesso di segnalare tre persone alla prefettura per utilizzo di sostanza stupefacente, ma sentiamo i particolari nel servizio. Intensificati i controlli a Vittoria. Negli ultimi due giorni la Polizia Ipparina ha aumentato l'attività che ha permesso di identificare 162 persone, di elevare 19 sanzioni ai sensi del codice della strada, la maggior parte delle quali per mancato utilizzo del casco protettivo, e di segnalare all'autorità giudiziaria sei pluri pregiudicati vittoriesi, tutti sorvegliati speciali, per inosservanza delle prescrizioni previste dalla misura di prevenzione cui sono sottoposti, o perché erano trovati in casa in orario notturno, o perché identificati mentre si trovavano in compagnia di altri pregiudicati. Tre giovani vittoriesi sono stati segnalati alla prefettura di Ragusa, in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. In particolare due di loro detenevano complessivamente due grammi e mezzo di hashish e del terzo un grammo di cocaina. La sostanza è stata sottoposta a sequestro. L'attività di prevenzione in generale ha consentito di evitare nell'ultimo periodo il reato di particolare allarme sociale, e analoghi servizi saranno posti in essere nel corso di tutto il periodo estivo, e saranno tesi soprattutto ad accertare che i sorvegliati speciali, particolarmente numerosi nel comprensorio di Vittoria, adempiano alle prescrizioni cui sono sottoposti. È stato riaperto al traffico ieri sera intorno alle 22 in entrambi i sensi di marcia il tratto della SS 115 tra il bivio di Brucet e il bivio Castiglione, che il mercoledì mattina è stato teatro dell'incidente, che ha visto un autocarro andare a sbattere contro un cavalcavia. In questi giorni il traffico ha subito rallentamenti per permettere la messa in sicurezza dell'arteria. Cambiamo argomento e passiamo ai fatti della politica, e ci spostiamo a Comiso, dove la decisione da parte dell'amministrazione comunale di ripresentare in maniera inalterata in Consiglio il bilancio consuntivo del 2010 ha lasciato basito il consigliere comunale Pasquale Puglisi. L'esponente della Torre ha invitato gli amministratori ad assumersi le proprie responsabilità di governo della città. Ma sentiamo il servizio. C'è da rimanere basiti dinanzi alla decisione della Giunta Alfano di riproporre lo schema del conto consuntivo 2011, così come era stato predisposto malgrado l'inattendibilità espressa dal Collegio dei Revisori. Questo è il commento del consigliere comunale di Comiso Pasquale Puglisi alla decisione presa dall'amministrazione comunale di ripresentare in Consiglio lo stesso bilancio consuntivo del 2010, già presentato la scorsa settimana. Il Consiglio comunale nella seduta del 14 giugno 2011, infatti, aveva invitato il sindaco e la Giunta a provvedere alla rimozione delle cause di non sufficiente attendibilità del rendiconto. L'assessore al bilancio di Trapani, ricorda Puglisi, ne ripropose in aula il ritiro, mentre ora, a distanza di qualche giorno, ha dichiarato in conferenza stampa che l'esecutivo presenterà lo stesso documento ritirato. Oltre a questa presa di posizione, Puglisi evidenzia che l'amministrazione sta tentando di scaricare in anticipo la responsabilità di un'eventuale bocciatura dell'importante documento contabile sui consiglieri, che, a suo modo di vedere, dovrebbero comunque approvare un documento inattendibile, pur di evitare le conseguenze gravissime. Per l'esponente dell'opposizione, l'assessore di Trapani e l'interaggiunta dovrebbero sapere che, in presenza di osservazioni e dubbi manifestati su uno schema di documento con atto pubblico, qual è la relazione dei revisori, l'esecutivo ha il dovere di procedere ad un attento riesame dello schema stesso, perché altrimenti potrebbe essere giudicato dalle competenti autorità come falso in atto pubblico voluto e volerebbe il principio contabile della veridicità del bilancio. E torniamo a parlare anche oggi della legge su Ibla e del rinvio all'Ars dell'Ordine del Giorno riguardante il rifinanziamento della legge speciale. Ieri mattina, come si sa, il sindaco di Ragusa, Di Pasquale, i sindacati e le organizzazioni di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione nei confronti di regione e governo nazionale e martedì una delegazione sarà presente all'Ars per assistere ai lavori. Preoccupazione e amarezza per la legge su Ibla Il rinvio all'ennesimo in poche settimane a martedì da parte dell'Ars della trattazione del voto sul rifinanziamento per 5 milioni di euro della legge speciale ha allarmato l'intero territorio ebleo, sindacati, organizzazioni produttive ed imprenditoriali. Ieri, durante la riunione convocata dal primo cittadino di Ragusa, Nello di Pasquale, è stato deciso di proclamare lo stato di agitazione nei confronti del governo regionale. Lo stesso primo cittadino, aprendo l'incontro, ha sostenuto che sarebbe un danno incalcolabile per il territorio il mancato finanziamento dei 5 milioni. Così, di concerto con il sindaco, è stato deciso di sottoscrivere un documento congiunto con cui viene proclamato lo stato di agitazione dai rappresentanti di CGL, CISLUIL, UGL, ASI, Confesercenti, CNA, ANCE, ASCOM, Confartigianato, Camera di Commercio e Conf Cooperative. Intanto, martedì pomeriggio, i rappresentanti del tavolo dello sviluppo e del lavoro con in testa il sindaco di Pasquale, saranno presenti alla seduta dell'Ars, nel corso della quale verrà presa in esame la questione del finanziamento della legge su Ibla. Dunque, un'altra mobilitazione che vede tutti, istituzione e mondo produttivo, insieme per difendere ancora una volta il territorio dall'ennesimo scippo e dall'ennesima promessa mancata da parte dei governi regionali e nazionali, sordi alle richieste della provincia eblea. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco.